Stavano chiudendo perché o seguivano degli investimenti importanti, nel senso di readattare la fabbricazione dell'acciaio con il rinuovamento delle tecnologie, quello che hanno fatto, in un grande modo l'hanno fatto. Ma a un certo momento, nel 1960, qual è stato il problema che ci ha creato, il problema anche a noi, è che hanno fatto tutta la siderurgia fra Mink e Maritina a Ghosn e hanno costruito una siderurgia 20 volte più importante di quella di Cochrisombre. Per il Belgio ha creato automaticamente una surcapacità di produzione, a confronto di quello che è nato, quando hanno fatto quello, è nato il problema della siderurgia e di tutta la parte wallone dove siamo noi. Questo è stato il primo problema.